Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbe paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave e non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più del nostro lasciaccio, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece con un sorriso ti ho accompagnato per la solita strada, ti ho baciato come sempre, ti ho detto dolcemente, la rontananza sai è come il vento. Spegni i fuochi piccoli e accendi quelle grandi. Quelli grandi. Quelli grandi. Grazie. 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 Grazie.